Questione di giorni e poi inizieranno i lavori di ripristino dell'ex area SNUM tra via Cadore, via Portamosa e via Giordano. Da anni in disuso e lasciato al degrado verrà riconvertita per realizzare il prossimo anno un supermercato Conad. La soprintendenza ha già dato il via libera al progetto, vincolandolo al recupero delle vestigia delle vecchie mura di Cremona. Parliamo dell'antica plataforma spagnola, già presente nella mappa di Antonio Campi, risalente addirittura al 1583. Allora erano state rette a difesa di Portamosa, il più antico accesso alla città, risalente addirittura al 1200, in condizioni disastrose però. Il progetto di recupero prevede che queste vestigia vengano restaurate, rendendole visibili e visitabili. Difficile dire se servisse un supermercato in più nella zona, sicuramente recuperare un'area lasciata al più totale abbandono, restituendo anche alla comunità dei preziosi reperti archeologici, non può essere una cattiva notizia.